Altra bomba di mercato in casa Novara Dopo la cessione di Daniele Sciaudone al Cosenza in prestito Altro prestito di Chiosa alla Virtus Entella Chiosa che era il capitano fino a qualche giornata fa Quando viene deciso di responsabilizzare Caccia Perché secondo lui se responsabilizza Caccia rende di più lo stesso Caccia E quindi si è andato alla faccia da capitano Allora Chiosa è stato ceduto a Lentella E si pensa a Michele Rigione Chi è Michele Rigione? Michele Rigione è un classe 91 Proprietà del Chievo Che nelle ultime tre stagioni ha vestito le maglie di Cesena e Ternana Perciò è un giocatore esperto Perché è comunque del 91 Non è un giovane Ha l'esperienza E si può dire di un'altra categoria Perché Cesena e Ternana sono squadre di Serbia Anche se tuttora la Ternana è retrocessa in C E il Cesena è fallito Però siccome ha giocato prima ha giocato in B E perciò è un giocatore di esperienza È un buon giocatore È un buon difensore Che può sostituire la grande Chiosa Che ha deluso molto in questa stagione Perché in questa stagione doveva essere il migliore Doveva essere il giocatore con più qualità Perché era quello che veniva Era uno dei pochi che aveva voluto restare con il Novara Gli era stata data anche la fascia da Capitano Però ha giocato male Non ha fatto leader Non ha fatto leader Che doveva fare Ha preso Ha fatto Ha preso più espulsioni Che presenze Perché praticamente Chiosa sarà stato espulso 3-4 volte In questo campionato Veramente troppe Perciò ha giocato poco Ha giocato poco Non si è trovato Non si è trovato bene Ci si aspettava veramente tanto da lui Perché Capitano doveva essere quello Che aiutava i compagni più giovani E anche nelle ultime partite Dopo essere entrato dalla squalifica Ha perso anche il posto da titolare Comunque È stato È ufficiale La cessione La cessione di Chiosa La Virtus Entella Quasi ufficiale L'arrivo di Rigione Al Di Rigione Al Novara Altra notizia Che non è Non è niente di ufficiale Solo un interessamento Del Novara Su Bellic Che Bellic è Un È un giocatore È un giocatore Della Primavera del Genoa Un classe 99 Attualmente in forza Alla Primavera del Genoa Che È stato messo nel mirino Del Novara Vedremo come si andrà A concludere La trattativa Questo è un giocatore giovane Può avere un gran talento Sinceramente Non lo Non so bene chi sia So bene chi sia Comunque Siamo alla fine di questo video Lasciate il like Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Attivando la campanellina Per non perdervi Nessun colpo di mercato Nessuna notizia Sul Novara Sulle serie A E nessun post partita Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Ad un prossimo video Sempre Forza Novara Sousa